Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video di vlog! Oggi sono solo io, mamma e papà perché Aurora sono ancora a scuola e io sono tornata prima! E Ludo, perché stiamo iniziando a registrare da soli senza Auri? Perché sta per arrivare tra pochi minuti Oh, la nostra già irà! E quindi dobbiamo correre alla stazione a prenderla perché trascorrerà con noi tutto il Natale! La vigila di Natale, l'arrivo di Babbo Natale, Santo Stefano tutte le feste con noi qui a Verona e noi siamo super felici! E andiamo subito perché siamo in ritardo! Sì, andiamo, veloci! Siamo arrivati alla stazione e stiamo per andare a prendere la nostra Zari Andiamo! Guidaci, Ludo! Come non lo sai? Dobbiamo andare al binario 2 Sei, ma che due? Ah, sei, sei, è vero! Sei! Vai, Ludo, vai! Con noi c'è anche Leo E qui c'è? È tutto euforico che sta arrivando in Zaira Che odorino! Potremmo sentire! Ma c'è un olore di graffo! Che delizia! Dopo andiamo a fare una bella merenda al bar La portiamo al bar Dobbiamo andare a casa! Vuoi andare subito a casa dopo? Sì, perché io leggerò l'anguorino e voglio mangiare Andiamo! Dai, dai, andiamo a cercare! Milano 10 No! Al binario 6 Qui ci sono i binari da 3 a 12 Quindi andiamo Andiamo a trovare il numero 6 Mamma, la svelata di moto Come ti senti, Ludo? Bene, però quando se ne va io piangerò un'altra volta Come ho fatto sui 20 anni Eh, vabbè! Ciao! Cuccialotta! Ma verrà presto qui da noi E non preoccupare No! No! Banana! Dai! Cucciola! Adesso non ci pensare Il binario 3 e 4? Questo è il binario 4? No, non è questo Dobbiamo trovare il numero 6 Dopo il 5 c'è 6 Sì, quindi siamo vicini Eccolo qui il 6 6? Ecco qui Binario 6 e 7 Et voilà! Binario 6, eccolo qua! Vai Ludo! Andiamo! Saliamo! 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 Oddio! Oddio che bello che bello che fa il treno Ludo sono qui! Zari! Eccoli! Eccoli! Amore! Moricino! Amore! Ci sei mancata tanto Zari! Cucciolina! Finalmente sei da noi Amore! Ciao Zia Meri! Ciao a tutti! Da mezzo Gianni! Ciao! Finalmente siete arrivati da noi! Ciao! Amore! Ma quanto ci sei mancata! Sei pronta per trascorrere tutto il Natale con noi? Sì! Ma fammi sentire Hai detto a Babbo Natale che i regali te le deve portare a casa di Aure Ludo? Eh! Perché se no poi sbaglia e non te li porta eh! Li porta a casa tua a Napoli! Secondo me è pure il portato a casa tua a Napoli! Sì! Secondo me porta un po' di regalini qui e un po' di regalini a Napoli eh! Ma tu sei sicura che gliele hai detto nella letterina? Sì! Se no poi si sbaglia eh! Ah! Meno male! Cioè ragazzi scusatemi ma cioè ma vi rendete conto ma cosa vi siete portati dietro? Cioè ma state scherzando? Ma come avete fatto a portare tutte queste cose? Ma siete pronti per trascorrere il Natale con noi? Non vediamo l'ora! È fortuna che non sono di macchina se non si portavo ecco meno male! Zari io direi di andare a fare una bella merenda al bar che ne dici? Andiamo? Ma siete contente che siete finalmente di nuovo insieme? Sì! Ma cosa farete di bello in questi giorni? Fatemi sentire! pensiamo Cosa? Pensiamo Pensate? Ah ci dovete pensare? Sì mamma Ma lo sapete che trascorreremo tutto il Natale insieme? Arriverà Babbo Natale Poi faremo poi faremo la vigilia di Natale insieme Natale Dove andate? Mamma Mamma oggi andiamo sui pattini Volete andare sui pattini sul ghiaccio? Sì! Io sono se non cadiamo Ragazzi Ragazzi ma siete sicure che volete andare con i pattini sul ghiaccio? Non siamo proprio sì Una bella pista di pattinaggio? Beh A meno Non è che poi cadete che fate delle capriole? Ma i pattini sono con una riga Adesso che ti vede Auri Appena ti vede Auri Ti aspettava Da ieri che ti aspetta Quando arriva? Quando arriva? Da ieri che parla di te Auri E non ti dico Ludo Ludo è un mese che dice quando viene Zari Quando viene Zari Io ho perso il calendario ho scritto sul diario quanti giorni mancano Ah l'hai scritta sul tuo diario Sono passati almeno 30 giorni Le casse della bevata Andiamo dai signorina Con le scarpe tutte rote Tutte 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 Eccoci arrivate E adesso prima di andare su a casa andiamo a fare un bel giretto Vogliamo portare a Zari a vedere i mercatini di Natale che ci sono qui a Verona E poi ritorniamo a casa perché dobbiamo aspettare Auri che torni da scuola perché Aurora sta ancora a scuola Ok Poi andiamo a casa ci rilassiamo un po' e aspettiamo Auri Ecco qui i mercatini di Natale a Verona Guarda il cremino volete macaro c'è anche la cioccolata calda nudo volete la cioccolata calda dai allora prendiamo due belle cioccolate calde con la panna con la panna sì volete anche le fragoline dentro i macaro prendiamoli scegliete gusti dei macaro mamma io questo giallo e il gano ok ecco Ludo per te Ludo scegli i gusti dei macaro giallo e parangolo allora uno mango e l'altro Ludo bianco a nocciola a cocco tu che gusto Zari nocciola e cioccolato allora nocciola e cioccolato ok come sono queste cioccolate ma ti piacciono i mercatini di Natale di Verona sì pure la panna Ludo tu che delizia buona calda calda ha proprio un bell'aspetto invitante questa cioccolata foto ricordo ragazze hai visto quanti regalini che ci sono qui poi Babbo Natale ve li metterà qui i regalini vostri aspetta devo vedere dove c'è una cosa è questo no non aprire non si aprono adesso non fate le furbe non vuoi ma sta dietro questo mi sa che è di Aurora questo regalino qui perché noi ci siamo fatti regalini anche tra di noi Leo cosa c'è mi fai le feste Leo ci fa le feste perché siamo appena rientrati a casa eh Leo amore di mamma guaricino mio che c'è amore che è amore patata e Zahira vediamo c'è scritto il nome di Zahira su questo regalino eh sì mi sa che è proprio il tuo questo Zahira lo sai che questo qui è proprio tuo cosa state aprendo i calendari di Natale è uscito qua Ludo fammi vedere cosa è uscito dal calendario che non l'ho visto bene vediamo c'è la ciotolina delle cioccolate qui cosa stai dicendo che Babbo Natale non è il mamma ma mi sa che Babbo Natale quando viene si mangerà tutte le vostre cioccolate perché farà un viaggio lungo lungo con la slitta è proprio Babbo Natale eh sì vediamo ce ne sono pure poche di cioccolate qui una due tre quattro ne darà uno per ciascuno anche alle renne ma mamma le renne non manca a chi Leo ti darà un abbraccio quanto ti è mancato Leo Zari ti è mancato amore Leo mi sei mancato tanto amore cosa volete mangiare per pranzo signorine dai che sta arrivando anche Auri volete delle belle pennette al sugo mamma guarda questo cagliolino a chi lo do ok tutto a posto alla ventana e se lo tieni una settimana intera dove andate dove andate furbacchione dove state andando oh ti sei fatta male ma chi ha scombinato il letto qui non lo so Zari ma ti sei dimenticata che tu qui hai lasciato il libro l'altra volta te lo sei dimenticato cercalo cercalo era firmato il tuo sì no vediamo vediamo qual era il tuo mi sa che era firmato quello tuo questo questo era vediamo trovato era questo qui non te lo dimenticare di nuovo mettilo in valigia così già ce l'hai pronto per quando riparti mamma ci vuoi hanno un sacco di gioco eh lo so hai ragione Luli guarda nonna Enza cosa vi ha mandato cosa sono i dolcetti posso aprirvi che carini no questi li apriamo a Natale sempre mamma vediamo un po' però si intravedono che carini e questi qui questi sono i i Roccoco che buoni poi a Natale ci mangeremo tutto eh mettete tutto sotto l'albero ma questo ma quanti regalini questi sono i regalini che hai portato tu Zari quanti regalini ci sono abbiamo aggiunto altri regalini ma ancora qua ci sono questi questi guarda quanti regali nuovi che ci sono non so di chi è eh non si sa metti giù c'è scritto il nome eh vediamo ti apri no mi sa che non c'è scritto aspetta siccome è mio si l'hai deciso tu vediamo questo e questo non so c'è il nome vediamo ma l'avete messo il nome anche qua tu sai di chi sei mamma mia che bella doccia che mi sono fatta mi sono messa a comoda e adesso mi mando un bel biscottino che buoni questi biscottini dove li hai comprati? li ha fatti il mio papà a casa che buoni giornata stancante interminabile però l'ho superata finalmente iniziano le vacanze natalizie ma Zahira sarà già arrivata o no? andiamo a vedere troppo contenta buongiorno Aurora sono arrivata Zahira Aurora Aurora ciao Madonna ciao 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 io buona me ho la guantata che è per un figlio oh mi sono viva sei pronta per passare in Italia insieme a noi? si ok ciao come stai? mi sono tu mi sono tu finalmente Finalmente tutte quante insieme. Auri, ma tutto questo è tempo per entrare. Eh sì. Leo, Leo, calma. Leo, mi sei stavolta e mi fa... Grazie, Leo, per il... Non l'orecchio. Leo, ragazzi, non so... Leo, mi sta facciando l'orecchio. Leo, senti. Ragazze, ragazze, ma siete pronti che iniziano le vacanze di Natale? E, 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 buon Natale. A tre, va... Aia, Leo. Aia, Leo. I just want to know for Christmas. Aren't you for the journey? Ehi, Fund. Don't care about the present. Oh, don't need the Christmas tree. A Lisa, do no't belone. Grazie, soffoca. Orden new cuando evaló. Take my wish. And inspirational. All I want for Christmas. See you. Eh, 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 Valeo, eh, eh, eh Ok, basta Ragazzi, mi sento mancate tanto Come? Noi siamo gli unicorni, grande esercito del cuore Se stiamo insieme tutto poi diventerà speciale Noi siamo gli unicorni, beh vieni a cantare con noi Oh, 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 non si arrendiamo mai